Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. C'è stato ancora un arresto per droga in provincia di Arezzo. Due giovanissimi sono finiti in manette perché sorprese in A1 con Ashish. Incensurati ed insospettabili, eppure viaggiavano con due chilogrammi di Ashish in uno zainetto. Per questo due giovani incensurati sono stati arrestati dalla polstrada di Battifolle lungo il tratto aretino dell'autosole. I due, appena maggiorenni residenti nel Trevisano, viaggiavano a bordo di una Fiat Punto con targa italiana. Sono stati fermati intorno alle 3 del mattino e al controllo dei poliziotti non hanno fornito spiegazioni troppo convincenti del loro viaggio e così gli agenti hanno effettuato una perquisizione personale, estesa poi anche all'auto. Sotto i sedili uno zainetto dal quale sono saltati fuori 22 panetti di cellofan contenenti 2,2 kg di Ashish che avrebbero fruttato circa 50.000 euro sul mercato dello spaccio. I due sono stati arrestati e nel corso della perquisizione è stato sequestrato anche uno smartphone a provento di una rapina perpetrata lo scorso 24 febbraio in provincia di Belluno per la quale sono state avviate le indagini per capire se i due arrestati abbiano avuto un ruolo attivo o siano solo entrati in possesso del telefonino e siano quindi responsabili anche del reato di ricettazione. Ancora cronaca, a Montevarchi un trentenne è entrato dalla parrucchiera non per il taglio ma in realtà per rubare denaro approfittando della distrazione della persona è infatti riuscito a prendere 100 euro. I carabinieri subito allertati sono intervenuti sul posto e dall'analisi dei filmati delle telecamere di video sorveglianza interna e pubblica hanno stretto il cerchio attorno al responsabile che è stato denunciato a piede libero. E sempre in Valdarno a Bucine un altro furto in questo caso in un'auto parcheggiata lungo la strada. Il proprietario della vettura al suo ritorno si è accorto che l'auto era stata forzata e gli era stato rubato il borsello ma non solo. I malviventi avevano pure prelevato 2000 euro dal suo conto prima che potesse bloccare le carte. I carabinieri grazie a testimoni e immagini delle telecamere hanno individuato il responsabile una cinquantenne con precedenti penali. In una perquisizione a casa sua i militari hanno trovato anche gli abiti che indossava al momento del colpo. Per la donna è così scattata la denuncia per furto aggravato e il lecito impiego di mezzi di pagamento. Questa mattina invece ad Arezzo al monumento agli aviatori italiani la cerimonia celebrativa della centesimo anniversario di fondazione dell'aeronautica militare italiana alle presenza delle autorità civili e militari per il comune di Arezzo era presente l'assessore Giovanna Carlettini. E adesso torniamo a parlare di legionella. Sono negativi i campionamenti effettuati dall'Asla sull'acquedotto aretino. Possiamo dire che nei fontanelli pubblici controllati dall'Asla la legionella non c'è mentre è ancora presente in una struttura sanitaria privata di Arezzo. A confermare che i risultati delle analisi compiute in questi giorni nell'acquedotto pubblico da parte dell'Asla ad Arezzo sono negativi rispetto alla legionella è il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli che ne ha avuto notizia ufficiale nelle scorse ore dalla stessa Asla. I campionamenti decisi dopo i due casi immortali per legionellosi nell'Aretino erano stati effettuati nei fontanelli pubblici di Agazzi, frazione alle porte di Arezzo e in due più a ridosso del centro, zona San Donato e zona San Clemente. Un quarto prelievo è stato effettuato nel serbatoio che si trova in fortezza il punto più alto della città. Gli esami su tutti i prelievi sono negativi. C'è ancora invece un'ordinanza firmata dal sindaco Ghinelli lo scorso 23 marzo che prescrive ulteriori procedure di sanificazione alla struttura sanitaria privata la San Giuseppe Hospital dove pochi mesi fa era stata già riscontrata la presenza di legionella. Questa per la struttura è la settima ordinanza. La nostra clinica è tuttora aperta e non ci sono chiusure o pericoli per i pazienti commenta Massimo Rosati, amministratore delegato della struttura. Il livello di legionella riscontrato è al di sotto della soglia di legge. Come riporta l'ordinanza effettueremo le operazioni di iperclorazione e dopo 48 ore i dovuti controlli da inviare poi all'ASL. Non c'è da preoccuparsi, continuo a Rosati, abbiamo montato dei filtri assoluti in tutta la struttura che sono già stati sostituiti dopo la loro scadenza. La nuova scadenza è il 21 maggio 2023. Ci spostiamo all'ospedale San Donato di Arezzo per conoscere la figura del bed manager. Vediamo di cosa si tratta. Una delle problematiche maggiori dei pronto soccorsi fondamentalmente sono l'overcoding, cioè l'iperafflusso e il boarding. Il boarding è quella situazione in cui i pazienti che hanno già finito il loro percorso e avrebbero già un indirizzo, una sistemazione, quindi bisogno di ricovero, purtroppo rimangono dentro il pronto soccorso per diverse ore e di questo se ne occupa appunto il bed management e le nostre bed manager. Monia, Marianne e Delisa sono tre infermiere con anni di esperienza in emergenza urgenza. Sono le bed manager in servizio all'ospedale San Donato di Arezzo. Il problema del sovraffollamento è diventato tema di attualità, quindi da parte delle organizzazioni sanitarie e dei vari presidi ospedalieri di istituire una figura che potesse traghettare e comunque diminuire quello che è l'iperafflusso in pronto soccorso, quindi lo stazionamento dei pazienti più a lungo per fluidificare tutti quei percorsi con il ricovero o altro. Le bed manager cercano posti letto nei vari reparti in cui collocare il paziente non affetto da emergenza sanitaria arrivato al pronto soccorso. La nostra giornata si sviluppa in un briefing che facciamo alle ore 8 con il pronto soccorso e OBI e vediamo quanti pazienti sono in attesa di ricovero. Poi andiamo a fare il giro di tutti i reparti all'interno dell'ospedale vediamo i letti liberi e le presunte dimissioni, perciò cerchiamo di distillare un numero per vedere se questo numero ci possa bastare per i ricoveri che vengono richiesti dal pronto soccorso e OBI e eventualmente se non ci fossero totalmente i letti disponibili per tutti i pazienti cerchiamo di occupare anche gli altri letti disponibili all'interno dell'ospedale tipo l'area chirurgica mettendoli in appoggio poi recuperarli nel setting giusto nel giro di pochi giorni. La figura è stata istituita con una delibera della regione toscana nel 2018 che demanda alle ASA, l'istituzione e la gestione operativa del bed management ad Arezzo è arrivata 5 anni fa. Questo è un lavoro di collaborazione, noi siamo un piccolo anello di una grande catena e tutti e tutti rimiamo nello stesso verso, il paziente prima di tutto. Ancora a sanità all'ospedale San Donato di Arezzo vengono effettuate tecniche innovative per risolvere la lombosciatalgia associata a derni al disco, arrestare emorragie interne ma anche per devascolarizzare o bruciare un tumore sono le crioablazioni. Nella 2022 sono stati ben 322 interventi effettuati con l'impiego di queste tecniche una cifra a cui vanno aggiunte le numerose infiltrazioni sulla colonna vertebrale per ridurre o eliminare il dolore. Procedure sempre più diffuse che permettono di evitare in casi specifici il ricorso all'intervento chirurgico. E questo pomeriggio invece all'auditorium Guido d'Arezzo un incontro per parlare del futuro della sanità retina con un focus proprio sull'ospedale San Donato. Cantiere perché è un modo di dire che non solo i pensieri ma anche qualcosa che ha a che fare con il mettere in pratica e quindi concretamente agire. Quella di oggi rappresenta la prima pietra la prima pietra del cantiere sanità all'auditorium Guido d'Arezzo la prima tappa di questo percorso condiviso nel quale è stato presentato anche il progetto di rigenerazione dell'ospedale San Donato. Quello che conta è il parere, il contributo, le idee e le proposte degli operatori sanitari. Un percorso che si concluderà in occasione del prossimo Forum Risk Management che si svolgerà ad Arezzo dal 21 al 24 novembre e che ospiterà nuovamente gli stati generali della sanità ma intanto si tracciano i contorni del futuro dell'ospedale Aretino. Abbiamo un'importante quantità di finanziamenti che stiamo cercando di unire ad altri in maniera tale da fare un ospedale un San Donato nuovo. Sicuramente una parte già iniziata con la realizzazione delle nuove terapie intensive le sale operatorie e poi sicuramente la realizzazione del padiglione volano che ci permetterà di stabilizzare dal punto di vista antisismico la torre 1 del San Donato. Ma non si ferma con il San Donato guarda a tutta l'area pionta dove c'è una programmazione condivisa tra l'Asle e il comune di Arezzo e soprattutto fa una riflessione sugli investimenti anche di formazione di servizi di personale e sulla telemedicina che è il vero elemento conduttore tra il territorio e l'ospedale. Passiamo alla politica attorno al Consiglio Comunale giovedì 30 marzo a partire dalle 9 per quanto riguarda il programma dei lavori dopo le interrogazioni ci sarà la presa d'atto della sospensione del consigliere comunale Roberto Bardelli e la sua sostituzione temporanea con Fabio Lucci si tratta di una conseguenza della condanna in primo grado che è arrivata per il consigliere eletto nelle fila di Oreghinelli e poi nel gruppo misto. Passiamo adesso all'economia dopo la preoccupazione da parte di confesercenti sulle anticipazioni che erano arrivate relative al DDL e concorrenza adesso il dietro fronte da parte del governo apprendiamo con soddisfazione che il Ministero per le imprese il Made in Italy ha assicurato che nella DDL e concorrenza non ci sarà la norma sulla deregolation totale dei saldi per favorire un confronto preventivo con le associazioni di categorie alle regioni commenta il direttore Valerio Alvisi ci sembra la scelta giusta le vendite di fine stagione sono un evento utile ai consumatori e alle piccole imprese del commercio dal valore conclude di circa 8 miliardi di euro l'anno ancora economia Bertelli ha acquistato il caffè dei costanti manca l'annuncio ufficiale che arriverà comunque a giorni la società dell'imprenditore di Prada ha infatti vinto l'asta indetta da banca intesa San Paolo il locale era stato chiuso nella novembre 2021 e adesso finalmente il caffè dei costanti tornerà a vivere voltiamo pagina per andare all'interno dell'istituto 4 novembre dove arriva un progetto di educazione civica grazie ad Atli sono state coinvolte quattro classi per un totale di un'ottantina di ragazzi quest'anno è stata una partenza un po' sperimentale nell'istituto per vedere qual era la risposta e la risposta dei ragazzi è stata veramente soddisfacente erano interessati e hanno partecipato a questo ciclo di lezioni in modo molto attivo a lezione di educazione civica e legalità tra i banchi di scuola le ACLI di Arezzo e l'istituto comprensivo 4 novembre hanno promosso un progetto rivolto ai ragazzi tra la prima e la terza media che sviluppato in 38 ore di lezione è stato orientato a promuovere la conoscenza dei valori fondanti della Costituzione come stimolo per contribuire in futuro alla vita sociale e democratica del territorio è importante fare quadrato come mondo associativo che tiene la formazione dei cittadini di domani insieme alla scuola delle famiglie e alle parrocchie poter rilanciare e rifare rete per recuperare il terreno perduto in questi anni vivere pienamente la cittadinanza il titolo del percorso ideato e interamente tenuto dal dottor Renzo Gori specialista in pubblica amministrazione siamo partiti esattamente dal congresso di Vienna per arrivare poi all'unità d'Italia allo statuto Albertino e da lì abbiamo cominciato poi per arrivare alla nostra Costituzione e la Costituzione era il tema fondamentale è l'articolo 5 che parla anche degli enti locali abbiamo parlato quindi del nostro comune e poi di tutto il sistema istituzionale ripeteremo il prossimo anno un progetto triennale in modo tale da approfondire perché l'interesse è stato immenso io ho visto una classe di prima la prima B in silenzio assoluto prendere appunti come se fossero un gioco che non conoscevano al quale li affascinava però questo gioco cuore del progetto sarà infine l'incontro con i rappresentanti delle diverse istituzioni che hanno dato la disponibilità ad incontrare gli alunni il prossimo 31 marzo appuntamento con la senatrice Simona Petrucci poi i giovani potranno conoscere e confrontarsi con il sindaco la giunta ed alcuni membri del consiglio comunale questo fine settimana sono tornate anche ad Arezzo le giornate di primavera del FAI quest'anno alla scoperta della via sacra questo lavabo era originariamente destinato a stare nel refettorio del monastero della compagnia della Santissima Trinità questa stanza infatti prima di essere la nostra aula docente in questa scuola era appunto il refettorio di questa compagnia dalla fontana di Guilhem de Marsillat all'interno del liceo classico Francesco Petrarca alle restaurate allogge del grano passando per la caserma della guardia di finanza un percorso inedito nel centro storico di Arezzo proposto in occasione delle giornate del FAI di primavera per indagare la via sacra attuale via Garibaldi una strada ricchissima di palazzi storici quest'anno il FAI ha dato l'opportunità di aprire una delle nostre sedi e quindi consentire alla cittadinanza di venire a conoscenza di questa opera del Marsillat che sta appunto nella nostra sala insegnanti e che è qualcosa di molto prezioso che è a disposizione di tutta la comunità del liceo Petrarca quotidianamente ma che finalmente diventa anche visibile a tutti quelli che ne vogliono approfittare Apprendisti Ciceroni gli studenti del liceo classico è molto bello infatti ho scoperto appunto questa cosa con questo progetto e mi ha molto entusiasmato come appunto iniziativa sì esatto anche noi non conoscevamo bene la storia di questo lavabo ma anche di altre sculture che ci sono appunto in città che non vengono aperte al pubblico spesso tra gli angoli visitati anche la chiesa della Santissima Trinità è un patrimonio della città di Arezzo è legata ai ricordi è legata ai riti funebri però è un libro aperto di storia di arte e anche di religiosità tappa infine anche al poco conosciuto monumento ai caduti del risorgimento soprattutto i giovani non hanno consapevolezza dell'importanza storica di questo monumento che ricorda tante vite umane che sono state tanto sangue sparso anche nelle guerre di indipendenza per la nostra Unità d'Italia per noi conoscere significa salvaguardare e pensiamo che proprio mettendo in luce l'importanza di quest'opera nel tempo se ne possa anche pensare alla tutela si avvicina la Pasqua dopo tre anni ritorna la processione della Madonna addolorata all'appuntamento e per venerdì prossimo alle 21 alla chiesa di San Biagio la tradizione è suggestiva e si snoda per le strade della frazione prevede sette scenografici quadri animati dai tanti parrocchiani circa un centinaio in tutto che rappresentano la passione di Gesù Cristo la processione richiama molti fedeli provenienti anche dai paesi limitrofi riprende poi anche la programmazione della volata del sabato santo sempre a Castiglion Fiorentino ad Arezzo invece grazie al coro Voce Insieme sarà una domenica delle palme tra musiche e beneficenza l'appuntamento è per domenica 2 aprile alle 19 nella chiesa di San Marco dove sarà ospitato il concerto che permetterà di vivere un viaggio nei secoli tra diverse sinfonie sacre la serata d'ingresso gratuito ma verrà prevista una raccolta di libere offerte da destinare all'organizzazione di volontariato amici di Marcello e adesso vi raccontiamo la storia di Monkey dalla raccolta fondi per l'intervento chirurgico ad una nuova famiglia è una storia a lieto fine quella di Monkey un piccolo Jack Russell che aveva avuto un problema cardiaco poi grazie ad una raccolta fondi è stato operato e adesso sta bene e ha trovato casa abbiamo fatto l'ecocuore di controllo giovedì è andato tutto bene deve fare solamente un po' di terapia per rafforzare o finire insomma tutta la procedura che abbiamo fatto perché l'operazione è stata veramente importante e ha trovato casa ha trovato casa da due sorelle che hanno un canino che è un pochino più grande di lui e si fanno compagnia abbiamo già fatto i primi incontri con quest'altro canino per farli conoscere insomma è andato tutto bene siamo felici ecco una storia a lieto fine insomma come purtroppo a volte non ce ne sono però ecco quando ci si impegna quando ci si mette il cuore alla fine le storie finiscono bene sì noi il cuore lo mettiamo da tutte le parti possibilmente e sì questa è stata proprio veramente una cosa impegnativa però bella insomma lui non avrà mai diciamo problemi per questa patologia che ha avuto perché l'operazione è considerata definitiva nel senso una volta fatta l'operazione abbiamo risolto il problema e quindi farà la sua bellissima vita da cucciolo ecco l'appello è sempre quello ecco di rivolgersi agli esperti per qualsiasi problema o dubbio che si possa avere nei confronti dei nostri amici animali sì poi siamo anche in un periodo molto bello nel senso che ci sono anche gli esperti nei veterinari ora invece prima la figura del veterinario dicevamo che era generico invece ora abbiamo proprio gli esperti ci sono le università insomma possiamo rivolgersi veramente dove vogliamo ecco passiamo alla pagina dello sport Arezzo Ostia Mare in calendario per giovedì 6 aprile si giocherà alle 17 non più alle 15 con il posticipo di due ore la società Amaranto ha voluto cercare di favorire un maggior affluso di pubblico allo stadio la gara quintultima di campionato metterà in palio punti pesanti sia per la corsa degli Amaranto verso la serie C che per la salvezza dei laziali e continua anche la striscia di vittoria dell'Amder 17 nella fase 2 del campionato con la vittoria 0-1 sul campo del Pisa salgono a 5 successi consecutivi per le ragazze di mister Cappelletti che mantengono saldo il primo posto in classifica punteggio pieno a Bagno Ripoli invece le under 15 fanno 2-2 contro la Fiorentina due pali un rigore sbagliato per le Amaranto un pareggio che sta stretto all'Arezzo calcio femminile sconfitta infine 0-3 un risultato federale per le under 12 contro il Bibbiena questa per stasera era l'ultima notizia vi ringrazio per l'attenzione arrivederci grazie a tutti